Ciao a tutti, luna nuova in Scorpione, che effetti avrà sul tuo segno zodiacale? Allora, dovete sapere che alle 17 del 7 novembre, Sole e Luna cammineranno insieme per un Novilunio e quali saranno, diciamo, queste promesse che la luna nuova porta con sé, la luna nuova che entra nel seno zodiacale dello Scorpione. Quindi Sole e Luna saranno perfettamente congiunti dando vita al Novilunio mensile e quindi la luna nuova rinascerà in Scorpione. Quali saranno gli effetti che produrrà sul seno zodiacale? Vediamolo segno per segno. Allora, partiamo dalla riete. Allora, la riete. Chi ami, se è della riete, potrebbe decidere qualcosa di importante senza troppa fatica. Potrebbe muoversi con una certa leggerezza e disinvoltura. A differenza del solito, la riete può avere, diciamo, per effetti della luna nuova dare dei colpi di test. Normalmente la riete non dà mai dei colpi di test, è un segno di stabilità, però a seguito, diciamo, di questo effetto può generare delle emotività forti. E quindi transitoriamente, diciamo, un segno molto razionale e iperlogico potrebbe diventare più emozionale. Vediamo il toro. Il toro. Allora, ai tori, grazie al supporto della luna nuova, diventerà spontaneo e facile decidere qualsiasi cosa, prendere decisioni nuove o accettare decisioni degli altri senza troppi problemi. Diciamo che in coppia è il momento di effettuare dei cambiamenti, perché la luna nuova dà al toro l'energia per poter effettuare questi cambiamenti. Vediamo i gemelli. Allora, i gemelli, diciamo, possono affrontare, grazie alle energie della luna nuova, qualcosa di importante, qualcosa di importante che prima non riuscivano ad affrontare. Ecco, la luna nuova porta nuove energie, quindi dai gemelli questa possibilità. Il cancro, invece, dovrebbe approfittare della luna nuova per mettere in gioco la sua creatività e senza stare a razionalizzare troppo, a pensarci troppo, facendoli in modo naturale, semplice, spontaneo, perché le energie la luna nuova le porta. Ecco qua, il leone. Ecco, il leone avrà la possibilità di aiutare altre persone. Il leone sappiamo che è un cuore generoso, il cuore di leone, e quindi avrà la possibilità, con l'energia aggiuntiva della luna nuova, di poter finalmente aiutare quella persona a cui tieni tanto. la luna nuova che effetto avrà sulla vergine. Sappiamo che la vergine è il segno più razionale dello zodiaco, ma con il supporto della luna nuova avrà anch'essa la possibilità di superare il complesso di vergogna, superare la vergogna che spesso ha la luna nuova, non sentirsi comparata in modo fallimentare a qualcuno, e finalmente tirare fuori il rospo in gola, dire quello che pensa. Questa è una grande possibilità per la vergine. E abbiamo la bilancia. La bilancia ha proprio, in questo caso, col supporto energetico della luna nuova, la possibilità di affrontare un impegno, una spesa, qualcosa che stava lì e non si riusciva a smuovere. Ecco, in questo modo ci sono le energie per smuoverlo. Vediamo lo scorpione. Lo scorpione ovviamente è al centro di questa energia, perché la luna nuova è in scorpione. E quindi, diciamo, l'energia riparte proprio dallo scorpione. E quindi c'è la possibilità di un grande cambiamento. Lo scorpione ha veramente la possibilità di effettuare un grande cambiamento, di grandi cambiamenti per lo scorpione se non mette dei freni, se non mette degli ostacoli, se non mette dei vincoli, ma segue semplicemente il flusso. Poi abbiamo il sagittario. Il sagittario, che è un segno, diciamo, come sappiamo, non troppo fedele, un segno fedifrago, da un certo punto di vista, comunque che segue le emozioni, può trovare le energie per poter vivere un rapporto basato più sulla fedeltà. Perché il sagittario deve mettere energie per vivere la fedeltà. Ha questa occasione. Dipenderà dal sagittario saperla, coglierla. Capricorno. Il capricorno deve utilizzare, dovrebbe utilizzare questa energia per passare all'azione, per realizzare un progetto e far sì che questo progetto possa trasformarsi in realtà. E quindi è il momento per il capricorno di darsi da fare, fondamentalmente. Abbiamo poi l'acquario. L'acquario può utilizzare questa energia della luna nuova per avere coraggio, per avere quel pizzico di incoscienza, di intraprendenza, che serve per poter raggiungere gli obiettivi importanti della sua vita. E poi abbiamo finalmente i pesci, che possono, diciamo, realizzare la propria sfida personale. Quindi una propria sfida personale che può essere un viaggio, un'esperienza, un qualcosa a non ragionare, e fai, fare, agire, pensiero, decisione, azione. In questo caso il pesce deve avere l'azione. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con i tuoi amici. Ciao!